È impressionante percorrere la campagna cremonese un tempo verde, rigogliosa e con i corsi d'acqua pieni e vederla ora secca e con i fossi vuoti. Una situazione che parte da lontano, da un inverno poco piovoso, con montagne sempre più povere di neve e con scorte d'acqua quasi esaurite per chi ha pozzi, terminate per altri. È come pensare di irrigare il giardino, un bel giardino con l'innaffiatoio. È abbastanza difficile riuscire a soddisfare le esigenze delle nostre culture. Quello attuale è però uno dei momenti fondamentali per la pianta e per il suo sviluppo. I nostri amministratori ci dicono che forse arriveremo al 60% di quello che è l'acqua. Ci hanno consigliato di non seminare più i secondi raccolti perché non ci possono garantire più l'acqua nei mesi successivi. Stiamo cercando di fare ogni cosa possibile, però la situazione è veramente importante perché la difficoltà di uno non può essere più aiutata dal vicino o quant'altro e quindi ci troviamo tutti in una situazione abbastanza impegnativa. Qualcuno potrebbe addirittura chiudere. Il futuro diventerebbe molto impegnativo perché stiamo cercando in questi mesi di portare a casa quello che ci servirà per tutto l'anno prossimo e quindi siamo abbastanza preoccupati. Purtroppo sì, se non si trovano le materie da dare da mangiare agli animali e vi dicendolo, purtroppo molte realtà saranno costrette a ridimensionarsi se non la chiudere. È brutto perché ha sacrifici di anni e anni e poi dopo trovarsi in una situazione del genere dove effettivamente anche se ci fosse un aiuto economico non servirebbe a niente perché se non ho la possibilità di comprare la materia... Un tempo però non era così. Non l'ho mai visti così, anzi da bambino ci si assaltava dentro, faceva il bagno ma tracimavano le annate che erano favolose. Il mio papà mi ha raccontato di un'annata che hanno portato le paratoie nei campi e poi non le hanno mai usate per dire quanto è stata piovosa l'annata e quest'anno proprio siamo all'estremo, all'opposto proprio.